Grazie, grazie. Matteo è sempre stato molto chiaro su questo. Il livello di governo nazionale è un livello che ha un contratto e tutti i contratti vanno onorati. Sulle regioni ci sono delle formule politiche tradizionali e credo che questa sia la linea da perseguire. Grazie, grazie. Voglio ringraziare prima di tutto i Sardi per la fiducia che hanno voluto accordare alla mia persona, alla coalizione di centrodestra, civica, sardista e autonomista e al progetto di governo che abbiamo presentato loro in questi giorni andando da nord a sud, da est a ovest della Sardegna incontrando tanta gente, parlando, confrontandoci. Grazie a tutti. Grazie.